È un ruolo molto bello per me perché è un ruolo femminile a tutto tondo, nel senso che è una donna che è molto materna, molto dolce, molto protettiva e allo stesso tempo è una donna che sa fare atti estremi e sa sacrificarsi fino al sacrificio quello più estremo. Quindi è un regalo, secondo me è un regalo alla femminilità questo film, perché comunque Sloboda fa un ruolo bellissimo perché è una donna che dimostra la follia della guerra e il dolore della guerra e il mio ruolo è quello di una donna più matura, più vecchia in qualche modo, forse che ha visto tante cose della vita e ormai non ha più paura di niente e forse non ha più niente da perdere questa donna e nel momento in contracosta che anche ha perduto la famiglia e che è un uomo che vende il latte per vivere, ma forse non dà neanche più valore alla vita, nel momento in cui questi due personaggi si incontrano, malgrado non sono neanche più giovani, però qualcosa di magico esiste e si rivela. E quindi credo che è un film dove si ritrova di nuovo, perché quello che mi piace di Mirko Sturizza è che la sua firma è sempre lì, e quindi questa dualità fra fantasia e realtà è sempre viva. E allo stesso tempo è un inno alla vita, alla speranza, perché vediamo due persone che in qualche modo dimostrano che la sessualità, la sensualità e l'amore sono un fatto di energia e non di età. Quindi è, credo, una speranza bellissima e un inno all'amore e alla vita. A proposito di Emir, come è stato il vostro rapporto sul set? Ma Emir rispetta le donne. E che donne? Insomma, lo dimostra perché ha scritto due ruoli bellissimi, quindi noi due ci riteniamo un po' i suoi angeli. E no, ci ha fatto un bellissimo regalo, Emir. È un bellissimo presente per noi. Oh, sì. Ovviamente. Grazie. Grazie.